Vi siete mai chiesti quale viaggio debba affrontare il vostro pallet per giungere oltre i confini nazionali? Lasciate che vi venga spiegato cosa succede nella rete Palletways. Grazie a una rete costituita da 23 hub e da oltre 400 concessioni distribuite capillarmente in tutta Europa, Palletways è in grado di offrire servizi di ritiro e consegna in 24 paesi. Questo pallet deve essere portato da qui a qui. Il viaggio internazionale comincia quando il pallet viene ritirato dal concessionario Palletways di zona e portato da questo presso il proprio magazzino. Da questo momento il pallet entra nel network Palletways. L'ordine viene elaborato e il pallet caricato sul mezzo per essere trasportato fino alla destinazione successiva, ovvero presso il hub principale di Palletways. Quando il pallet arriva presso l'hub principale viene scaricato e sistemato all'interno dell'apposita baia, pronto per proseguire il suo viaggio internazionale. Il pallet è ora in viaggio verso il hub del paese in cui si trova la sua destinazione finale. All'arrivo il pallet viene scaricato e sistemato all'interno dell'apposita baia del concessionario di destino, responsabile della consegna finale. Quest'ultimo si occupa di caricare il pallet e portarlo all'interno del proprio magazzino. Una volta che il pallet ha raggiunto il magazzino del concessionario di zona, viene scannerizzato all'ingresso e smistato in base alla località di destinazione. Viene caricato su un furgone più piccolo, pronto ad affrontare l'ultimo miglio del viaggio. Il vostro pallet è giunto a destinazione ed è stato consegnato in modo sicuro e dunque terminato il suo viaggio internazionale. Il cliente può ora porre la propria firma sul telefono del conducente. La firma documenta che la consegna è avvenuta con successo, riconfermata immediatamente al cliente, mentre voi riceverete una prova di avvenuta consegna, POD, a completamento dell'ennesima storia di un viaggio internazionale conclusosi con successo, grazie al più grande network europeo espresso di merce palletizzata.